Ciao a tutti! Oggi andremo a vedere come realizzare una scopa della Befana Porta Caramelle. Per realizzarlo ci servirà una busta del pane, dello spago, un lecaletta con il bastoncino in legno abbastanza lungo, delle caramelle, la colla stick, le forbici e la colla caldo. Per prima cosa andiamo a ritagliare una parte della busta e formiamo un rettangolo. Andiamo ad incollare i due lati, uno e due, e creiamo una bustina. Al suo interno andremo a mettere le caramelle e poi, per ultimo, mettiamo il nostro lecaletta in modo che il bastoncino spunti. Prendiamo lo spago, mettiamo una punta di colla caldo per bloccarlo e poi giriamo tutto il torno. E nuovamente, con la colla caldo, fermiamo. Una volta fatto questo passaggio, andiamo a ritagliare un altro rettangolo dalla busta del pane e andiamo a fare tanti taglietti. Una volta fati tutti i taglietti, andremo a mettere questa parte tutta intorno al sacchettino. Utilizziamo la colla caldo. Prendiamo l'altra parte di spago e andiamo a metterlo nuovamente intorno alla parte nuova che sta sotto. Abbiamo così realizzato una scopetta per la beffana portacaramelle. Alla prossima! Ciao! Ciao!